Una due giorni importante sul Lago Maggiore tra Cannero e Cannobbio per parlare di iniziative importanti con al centro comunque sempre i borghi che sono una risorsa fondamentale del nostro paese. Sì, è una grande soddisfazione, è una grande opportunità, l'abbiamo ricercata, voluta fortemente grazie al lavoro anche del nostro stesso lato al turismo e abbiamo proprio voluto fare questa cosa, portarla avanti insieme congiuntamente con Cannobbio, col Comune di Cannobbio perché già da alcuni anni si lavora in squadra per fare promozione, per lavorare sulla promozione turistica. Quest'anno portiamo gli amici dell'associazione Comuni Bandiera Arancioni che sono qui riuniti per l'Assemblea Nazionale ai castelli insieme proprio per far diventare questo simbolico punto di incontro, di una sinergia, di una collaborazione che io ritengo fondamentale, Cannobbio e Cannero possono presentare un prodotto integrato che va a creare un brand e che spero diventi anche un brand del Lago Maggiore perché il turismo lo si fa se riusciremo tutti insieme a costruire il brand del Lago Maggiore. Le bandiere arancioni sono molto importanti in tutto il VCO, ce ne sono sei, avete scelto Cannero e Cannobbio per questa riunione e poi per l'Assemblea. Sì, noi tradizionalmente dal 2002, da quando nasce l'associazione Paesi Bandiera Arancioni, ogni anno facciamo l'Assemblea itinerante. Centro-Nord-Sud Italia, decidiamo l'anno prima dove essere ospitati e questa volta siamo qui a Cannero e Cannobbio perché i sindaci ci hanno chiesto di essere presenti e noi ben volentieri visitiamo questo territorio che è molto bello e devo dire due comuni meritevoli della bandiera arancione. Chiaramente le città importanti come Roma, Firenze e Venezia la fanno sempre da padrona ma c'è molto più attenzione adesso, specialmente al turista straniero, nella ricerca della tranquillità del borghi, la scoperta del borgo. Ed è un tessuto economico importante perché nei borghi che si rivitalizzano vuol dire anche creare posti di lavoro soprattutto per i giovani. Quindi il recupero del prodotto tipico del territorio, il mantenimento del territorio stesso e quindi va di per sé che è un'importante occasione di promozione non solo del territorio stesso ma dell'Italia tutta.